Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io e oggi siccome è 31 ottobre ovvero Halloween ho deciso di cercare su YouTube un po' dei video particolari, dei video strani che vengono trovati solo se nella barra di ricerca scrivete un codice binario e questi video sono davvero inquietanti e sono giusti per questo giorno. Ok, io direi di iniziare subito da questo video che è abbastanza inquietante direi, guardiamo. Ma cosa? Oh mio Dio! Cosa? Cosa diamine sto vedendo? Non ho parole! Inquietantissimo! Chi è il pazzo che ha fatto sti video? E vabbè! E vabbè! No! No! E... Quanto sei brutto! E la maggior parte dei video sono tutti così. Questo viene definito un po' la parte strana di YouTube. Ehi, io ci avrei paura a continuare. Andiamo con quest'altro video. Ancora più spaventoso di quello di prima ovviamente. Ehi... Ok. Ok. Cosa? Oh mio Dio, ragà. Oh mio Dio! E vabbè Ok Mi preoccupano tantissimo questi video Vediamoci quest'altro video Io veramente non vorrei continuare Perché avrò gli incubi stanotte Serio Ok c'è una corda Ok c'è una bellissima Volevi spaventarmi Volevi spaventarmi Adesso cerchiamo quelli seri Perché c'è anche un black humor Sulle torri gemelle Io lo vorrei vedere Tutti hanno questo codice binario come titolo Quindi per trovarli bisogna solo scrivere questo codice fottuto Ok E' un messaggio subliminale secondo me E vabbè Così Va bene Va bene Prossimo Questo credo faccia ancora più paura Io lo vedrei per sicurezza Una sigla al contrario Ottimo Oh mio dio 20 hertz Ma che 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 Ma che che 5 4 3 2 1 Oddio no Questo è inquietantissimo Perché questa canzone poi Che non ha senso Oh mio dio Ragano Oddio 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 mi sta mettendo ansia Quanto è brutta Oddio 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 Giuro avrò gli incubi Oddio 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 Ma che Cosa sto vedendo Cosa hanno visto i miei fottuti occhi Oddio raga no Oddio 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 Guardiamoci quest'altro Spero non sia brutto come quello di prima Ma chi è che fa sti video? Un malato. Oh mio Dio. Iniziamo bene. Ok, salve. Cosa fa lei? Non si sa cosa fa lei. Dobbiamo aspettare per molto? Ok. Ok. Non mi mettere ansia. Bene, aspettiamo ancora per un po'. Ok, io... Non ho capito ancora niente. Ma che cavolo è quell'immagine? Non hanno senso sti video. Ok. Direi che possiamo concludere la grande con un bellissimo video. Ce ne sono un botto qui, raga. Non so quale farvi vedere perché sono uno più inquietante dell'altro. Giuro. È un po' complicato scegliere un video. Oddio, questo mi intrippa un casino, sto video. Voglio vederlo. Sono super curioso. Ormai siamo entrati in questa parte strana di YouTube e... Dobbiamo concludere la grande. Ok. Non hanno senso questi video. Ce ne ho capito perché. C'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non quadra. Vabbè. Oh Gesù, che razza è? Che cosa è? Oddio, no, cos'è sto video, no. No, cos'è? No, raga, non ce ne... Non esco più da questa parte. Eh... Ok. Ma che? Oddio. Come far venire gli incubi la notte? Mi sa proprio di sì. Ok, io direi di... Non entrare troppo in fondo. Non vorrei causare gli incubi questa notte. Va bene, raga. Direi di chiudere qua questo video un po' particolare. Spero che vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like. Iscrivetevi al canale. Mettete baci e baci a Facebook. Trattate le ringrazioni con altre social. E niente. Io vi auguro un buon Halloween. E ci si vede in un prossimo video. Bella. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.